Siamo qui col Presidente del Consiglio regionale del Piemonte all'Asia. Presidente, è possibile che si configura un'emergenza umanitaria per quanto riguarda l'Ucraina e che arrivi in Europa dei profughi ucraini, ma non è l'unico conflitto l'Ucraina al mondo e i profughi che arrivano da conflitti sono molti. Cosa ci può dire? Assolutamente, purtroppo è vero. Il Governatore ha già dato piena possibilità di ospitare i profughi ucraini che scappano dalla guerra in Piemonte. Indubbiamente ognuno deve fare la propria parte in Europa e in Italia, anche noi come Regione Piemonte, al primo appello dell'Europa ci siamo portati avanti. Abbiamo già aperto un canale istituzionale per accogliere. Certamente bisogna fare in modo tale che i profughi sono effettivamente profughi che scappano dalla guerra e non come purtroppo abbiamo visto in anni passati profughi che non sono profughi che scappano dalla guerra. Le regole internazionali non le dettiamo noi dalla Regione Piemonte, noi le utilizziamo e facciamo in modo tale che dare supporto tecnico e anche psicologico e sociale, come l'ho detto più di una volta, ai profughi e anche agli ucraini piemontesi che sono quelli che si risiedono, che stanno subendo questa tragedia nel loro paese e per i loro familiari. Grazie Presidente. Grazie a voi.